Ah, pensavo alla rottura di scatole, ad avere fili, cuffie, giornali, documenti, un po' buco... Eccolo là, lo sapevo! Sì, ho capito! Arrottino, ti vedo un po' euforico stamattina. Cos'è, l'Arrottino Canterino? Sì, sì. Lo so come mi chiamo! Lavoro in nero! Cioè nel senso... Lavoro in nero? Sì, lavoro in nero! Noi facciamo lavorare un nero in dentro, si fa! Facciamo abbraccio di ferro, condiziamo ferro! Sì. Tossiamo e scorreggiamo per lo scorso! Arrugginito! Ci prendiamo gli schiaffi alla vostra quesima! Cioè! Siamo corvolmente all'unicchietto! Signor! Cominciamo, Dio, a credere in voi! Ah! Ricordiamo i rotoli e gina! Che non finiscono mai! Esatto! Sì! Andiamo in un megafono e ci pingiamo a rotini, risultanto simpatici! Ed efficienti! Ed efficienti! Ascordiamo un attacco di panico e un attacco di diarrea! Sì! Vi rendiamo ricchi! Di più? Anzi di più! Ricchiarmi! L'arrotino! Suoniamo emozioni! Radio MPA Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!